La visuale strategica si sta aggiornando. Ecco come se la sono cavata le forze europee la scorsa settimana. Ci sono stati degli intoppi negli Stati Uniti orientali. Oh, gli americani tornano all'attacco. Come non detto. Le forze americane sono impegnate in intensi combattimenti nella capitale del Venezuela, dove una violenta insurrezione armata le ha colte alla sprovvista. Non c'è nessuna operazione di rilievo qui. Ah, io per il provverei... Di tre. Negli Stati Uniti orientali. La base aerea di Maxwell. Lo difettiamo Maxwell. Lo attacchiamo qui. Rapporto operativo, Capitano Cimino. Certo, generale. Pamlico Carolina del Nord. Sarà un assalto avio trasportato alla conquista di un gruppo di stazioni radio. Potremo richiedere attacchi aerei. Combatteremo senza il beneficio del supporto terrestre. Il nemico combatterà senza copertura aerea. Ci serviranno armi pesanti capaci di colpire dalla lunga distanza. Se no, Maxwell... Base aerea di Maxwell. È considerata una missione critica. I russi cercheranno di neutralizzare le stazioni radio e poi di attaccare dal cielo. Potremo richiedere attacchi aerei. Non avremo supporto terrestre. Il nemico combatterà senza copertura aerea. La fanteria potrebbe sfruttare i molti ripari disponibili. Andiamo in caserma adesso. Sì. Ok, questo è necessario adesso. Assentate, non penso nient'altro. Le forze americane sono impegnate in intensi combattimenti nella capitale del Venezuela, dove una violenta insurrezione armata le ha accolte alla sprovvista. Proviamo ad attaccare Pamlico, vai. Negli Stati Uniti orientali, la base aerea di Maxwell, colonnello, stiamo mettendo fuori uso le stazioni radio del suo settore. Il suo compito è impadronirsene con effetto immediato. Ancora una volta, il suo avversario è il colonnello Fyodor Savinov, delottava meccanizzata. L'ha sconfitto l'ultima volta che vi siete incontrati. Perciò avrà paura di lei. Non lo diluva. Ora che l'Europa ha ottenuto una posizione dominante, dobbiamo guardarci da un pericoloso sabotatore. L'autocompiacimento. Combatta con tenacia e abilità tattica, fino all'ultimo istante di questa campagna, colonnello. Faccia il suo dovere. Allora, prendiamo Un'artiglieria Cafanteria Dei trasporti Ok L'operazione Cesare è al via Ripeto Cesare è al via Unità in arrivo Unità 3 Conquistare Alfa Unità in arrivo alla zona di schieramento Sì, ci spostiamo Questo è tra gli alberi Sì, confermato Confermato Lanciare il falco Ecco Facciamo un faro Qui Unità Daga Tutte le squadre in piena forma Qui Unità Danubio Tutti i mezzi in buono stato Qui Chopin Granatieri schierati Qui Cartesimo In posizione e pronti Qui Unità Daga Ok Sì Tutte le squadre in piena forma Qui Unità Danubio Tutti i mezzi in buono stato Qui Unità Catapulta In posizione Ok, l'unità 4 Sì, siamo in marcia Aspettiamo qui gli ultimi Quadrante centrale Truppe dell'esercito russo in vista Qui Catapulta Tutti i mezzi pronti all'azione Sì Ingaggiare il nemico Qui Cartesimo Tutti i sistemi operativi Qui Catapulta Attacchiamo il nemico Guarda quelli quanti sono Attenzione ad Alpha L'abbiamo conquistata Ci sono rinforzi disponibili Unità 3 Potenziare Alpha Supporto aereo Unità 3 Unità 3 Potenziare Alpha Supporto aereo Unità in arrivo Alla zona di schieramento Qui Unità Danubio Sì Sì Guarda che Qui Catapulta Armati e pronti Aspetta ci son questo Qui Catapulta Qui Platino Tutti gli aeromobili Pronti a muovere Qui Unità Danubio Prendere quella stazione radio Sì Attenzione all'Unità 5 Sono in pericolo Qui Danubio Capriamo il fuoco Che attacchiamo questi Squadrante S Trasporti BTR 112 In vista Unità in arrivo Alla zona di schieramento Stanno subendo Oh Qui Unità Sic Freedom Stiamo conquistando La stazione radio Comando Qui Unità Platinum Pronti per gli ordini Attenzione a Coxtrot Il nemico ha preso La stazione radio Qui Sic Freedom Qui Catapulta Facciamo a pezzi Questi Bastard Questi sembrano Verso il sicuro Questi sembrano Quasi per soffrire Attenzione all'Unità 5 Sono soppressi Dall'azione del nemico Qui Unità Sic Freedom Stanno facendo la pelle Attenzione al quadrante centrale Nemico neutralizzato Qui Comando Aereo Europa Il segnale è autenticato E sicuro Voglio non finirci Comando mobile Brigata Guardie Unità in arrivo Alla zona di schieramento Qui Galileo Carri Pantera schierati Attenzione a Giu Unità 5 Potenziare Zulu Zulu Guerra elettronica Trascelta Eh stanno tutti ammassati Laggiù Qui Unità Platino Ti hanno abbattuto Un'aeromobile Qui Platino Qui Unità Platino Sì Qui Moda Comando schierati Vediamo questa Sì Senta per parte Unità in arrivo Alla zona di schieramento Attenzione all'unità 6 Gli stanno saltando I nervi Sì Sì Comando Rivela Qui Unità Siegfriedo Eh stanno credendo L'intravolazione Alla zona di loro Qui Comando Informativo Europa Vostro segnale È stato autenticato Attenzione all'unità 5 Brutto Ingaggio Questi li ripieghiamo Guida Nubio Svegliamo anche questi Partiglieria Fuoco Qui Unità Catapulta Facciamo a pezzi questi bastard I nemici subiscono danni Ok Eh però aspetta Questi Affermativo Come no Qui Einstein Costelli di schierati Rinforzi pronti a essere schierati Confermato Siamo in marcia Riposizionare il falso Confermato Sì Ma potremo colpire i nostri Attenzione al quadratto centrale Rilevate emissione elettromagnetica E se avevo detto Vabbè Sì Ci sganciamo Qui Bise Destrazione in arrivo Qui Unità Catapulta Uccisione confermata Ok Unità in arrivo Alla zona di schieramento Qui Mota Arcieri schierati Attenzione a Zulu Arcieri a difesa della posizione Attenzione a Zulu Gli arcieri ingaggiano il nemico Qui Dacat Cerchiamo di prendere una stazione radio Attenzione al quadrante centrale Nemico neutralizzato Qui Bise Superstiti a bordo Stiamo decollando Qui Unità Danubio Abbiamo perso due mezzi Via Vabbè i droni c'erano Granatiari schierati Fuoco fuoco Qui Catapulta Facciamo a pezzi questi bastard In cammino Attenzione agli Yankees Aspettiamo adesso Abbiamo presa Rinforzi pronti a essere schierati Unità 3 Potenziali Bianchi Sul porto aereo Facile per noi Allora Ci spostiamo Ok Che noia Ammazzerei qualcuno Sì mi serve un punto avanzato Yankees Attenzione agli Yankees Designata come zona di schieramento avanzata Unità in arrivo alla zona di schieramento Qui Unità Catapulta Armati e pronti Qui Tago Tutti i mezzi in buono stato Qui Unità Erini Siamo in piene forza Qui Unità Taga Tutti i mezzi in ottime condizioni Attenzione a Bravo Stazione radio conquistata Bene Attenzione a Sierra Stazione radio conquistata da forte nemiche Sì 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 Alliamo a bordo dei mustelli Lo stiamo per sparcare Qui Unità Catapulta Attacchiamo il nemico Questi non li avevo ripiegati Ripiegare Confermato Qui Branto Qui Einstein Mustelli dischierati Prendere quella stazione radio Carico è pronto all'azione Qui Tago Tutti i mezzi in buono stato Qui Branto Stiamo a bordo dei mustelli Bene Qui Comando Aereo A bacche di precisione autorizzate Ok Confermato Ci muoviamo I nemici si stanno schierando Mi 55 L'Opusta in vista Abbiamo Unità Multiple pronte a essere schierate Qui Unità Tavere Tutti i mezzi pronti all'azione Ok andiamo alla salta I nemici Coscritti russi in vista Unità Tavereo Siamo a bordo dei mustelli Unità 5 Raggiungere Lima Qui Unità Tavereo In posizione Quadrante Est Ingegneri Spetsnaz in vista La stazione radio è fortificata Qui Unità Tavereo I nemici si stanno schierando Nemico annientato Qui Unità Tavereo Siamo sotto un attacco in testo Attenzione azzurro Tutti gli arciari distrutti Quadrante Est Nemico eliminato Prendere quella stazione radio Siamo ridotti male Inviate evapazione Subito Attacco alle spalle Attenzione all'unità 9 Estrazione richiesta Qui Chopin Estrazione in arrivo Quindi questo L'attacco azzurro Attenzione azzurro Disegnata come zona di schieramento avanzata Qui Unità Tago Qui Unità Branno Il nemico ha fortificato la stazione Ranno Comando mobile ragno reale in vista Stiamo conquistando la stazione radio Abbiamo perso due squadre Attenzione all'unità 2 Sono nei guai L'unità S l'avrido male Qui Unità Tago Qui Catapulta Non dobbiamo fare questo Qui Chopin Superstiti a bordo Stiamo decollando Qui Unità Branno Unità fuori combattimento Chiedo evacuazione Attenzione all'unità 8 Estrazione richiesta Qui Tacap Stiamo conquistando la stazione radio Qui Tempesta Sì Ma potremo colpire i nostri Abbiamo perso un metro Eh lo so Qui Chopin Superstiti a bordo Ce ne andiamo Ce ne andiamo Sì Saliamo sui musteri Qui Beethoven Tutti esperti Ci sono a bordo Decolliamo Attenzione a Lima La stazione radio è nostra Iniziamo l'attacco Attenzione a Zulu L'impulso ha messo fuori uso La stazione radio Attenzione a Zulu Zona di schieramento avanzata Pezza Questo lo Evacuiamo Siamo in marcia Comando Lui è Branno Nessuno ci vede Comando Ok Unità 3 Potenziare Lima Guerra elettronica Mi tesi Dai Puttate L'UX Oh Morto Tocca a voi E andiamo a B Qui Beethoven Sperstiti a bordo Ce ne andiamo Attenzione a Bravo Designata come zona di schieramento avanzata Unità in arrivo sul terreno di scopo Qui Tago Pronti per gli ordini Sarà fatto C'è artigliere nemica? Potrebbe essere Sì comando Ci sgacciamo Qui Erini Spugnare la stazione radio Confermato Attenzione al quadrante est Nemico neutralizzato Qui Chopin Comando schierati Unità in arrivo alla zona di schieramento Unità 4 Conquistare Sierra Stiamo conquistando la stazione radio Trovare il segnale Essere il segnale Guarda un po' chi c'è Dammi dell'artigliere Unità in arrivo alla zona di schieramento Qui Unità Eiger Confermato Ci muoviamo Qui Comando Informativo Europa Bosco segnale stato autenticato Attenzione al quadrante nord-est Trasporti corazzati Blatta in vista Qui Erini Sapete come funziona Attaccami questi Stiamo attaccando Attenzione a delta Stazione radio conquistata Abbiamo unità multiple pronte a essere schierate Qui Aiger In posizione e pronti Comando mobile Qui Tempesta Ci avviciniamo al bersaglio Poco ragazzi Si ingaggiare il nemico Qui Unità Tati Un mezzo è perso Maledetto cane Attenzione a delta Stazione radio distrutta Qui Handel Estrazione in arrivo Unità in arrivo alla zona di schieramento I nemici si stanno schierando Mi 55 Locusta in vista Siamo in marcia Comando Qui Sait Siamo in piene forze Qui Svorjak Arceri schierati Ma ci serve questo Stiamo conquistando la stazione radio Qui Handel Abbiamo i superstiti Stiamo arrivando Andiamo in marcia Attenzione al quadrante nord Comando mobile ragno reale in vista Ancora della fanteria Qui Unità Taka Tutte le squadre in piena forma Otomobile Brigata Guardi Tira spara Sì comando Quella Qui Einstein Carri Pantera schierati Qui Unagro Andiamo attaccando Brigata Guardi Sì ci spostiamo Attenzione a Sierra Stazione radio conquistata Abbiamo unità multiple pronte a essere schierate Sì comando Magnifico Mi hanno sparato il drone Qui Handel Superstiti a porto Ce ne andiamo Unità in arrivo sul terreno Facciamo fuori Attenzione questi avanzano Autosporti Qui Unità Taka Abbiamo unità multiple pronte a essere schierate Attenzione a Delta Gli aceri ingaggiano il nemico Qui Unagro Fuoco Andiamo attaccando Qui Unità Aiger Il nemico ha fortificato la stazione radio Qui Unità Aiger Attenzione a Delta Tutti gli aceri distrutti Un piacere Attenzione all'unità 3 Si diranno perdi Corri Corri Unità Taka Qui Unagro Poco d'artiglieria sulla nostra posizione Abbiamo unità multiple pronte a essere schierate Qualche ferito Fuoco d'artiglieria sulla nostra posizione Qui Etna Tutti i mezzi in buono stato Sì Ci spostiamo C'è una maledetta artiglieria da qualche parte Qui Saita Andiamo in via all'attacco Attenzione al quadrante Est Con scritti russi in vista Missione riuscita Terreno di scontro è sicuro Tanti saluti ai leggendari Spetsna Ah eccola Srapporto di fine missione colonnello Generale George S. Patton La guerra non si vince morendo per la propria patria Ma facendo sì che l'altro bastardo muoia per la sua Due unità annientate a causa di quell'attacco laser Nove unità sopravvissute Cinque unità promosse Grado B Non male Promossa 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 Annientata Annientata Vabbè Il Tago era Poi tanto vedranno L'elicottero zirconi Sì Poi ho un tridente Che sopravvissute Tre eliminate Due Otto Tre Dudici Sette Vabbè questi Erano già automatici Attacco aereo due Una guerra elettronica E un ADM Molto bene Che sopravvissute Che sopravvissute Che sopravvissute